ma come mai lei ci ha detto che le sorelle non vanno mai fatte però qua come può notare anche lei è pieno di sorelle tutte sorelle bravo allora intanto bravo perché tutte le volte che hai un dubbio su quello che fai o su quello che uno ti dice devi chiedere intanto bravo ricordi qui l'angolo sono venute le sorelle perché l'angolo è particolare non è a 90 gradi e la muratura fatta in questo modo questi mattoni non sono il massimo perché non si rompono quindi abbiamo in realtà potevamo avere e farlo con dei mattoni diversi pieni come questi e come vedi non sarebbero venute sorelle perché questo è l'incastro potevi tagliare gli angoli o lasciarli anche a faccia vista intonacare il resto ok ok bravo comunque grazie prof prego continuo